Vi porto con me in un giorno allo stadio a vedere Interjuve. Dopo otto ore passate al campo a registrare i video, abbiamo fatto una veloce merenda al MAC, salutato qualche amico che non ci avrebbe raggiunto e ci siamo avviati verso San Siro. Gilberto ovviamente, come sempre, ha dato spettacolo con la sua testa magica e poi siamo arrivati allo stadio tra tutte le tantissime altre persone che sono venute a vederla. Era la mia prima volta a San Siro e sono rimasta molto stupita da quanto fosse grande e soprattutto fosse alto. Cioè, io non so cosa si veda da quei posti lassù in cima. Il clima era atteso da entrambe le parti e dopo qualche pronostico... ...oggi 2 a 1 Juve. Secondo me, 2 a 1 Inter, la Juve passate al fantasma e l'Inter rimonda. Infatti, sulle mie storie Instagram qualcuno è stato decisamente più bravo di noi. Abbiamo fatto delle lunghissime scale per arrivare nei posti in tribuna e dopo la fatica e qualche balletto... Abbiamo assistito alle coreografie di inizio partito.